Sintesi previsionale per mercoledì 1 novembre 2023 e successivi due giorni. Nubi in deciso aumento al nord-ovest e lungo la fascia tirrenica, dove vi saranno delle pioviggini sparse. Dalla sera non sono da escludersi locali temporali sulla Liguria e sul comparto alto toscano. Condizioni di maltempo sulla Sardegna centro-meridionale, dove vi saranno piogge diffuse e temporali, in trasferimento verso il nord della Sicilia e l'area tirrenica meridionale. Temperature in calo generalizzato con venti in rotazione e rinforzo da sud-ovest. Successivi due giorni. Marcato ed imponente peggioramento nella giornata di giovedì che investirà le regioni settentrionali e successivamente il centro-nord lato tirrenico. Il tutto sarà accompagnato da forti piogge e temporali con elevata criticità per rischio idrogeologico. Dal tardo pomeriggio il maltempo investirà rapidamente la Sardegna ed i settori tirrenici. Parziale attenuazione dei fenomeni venerdì, con le precipitazioni che si concentreranno sulle isole, al sud e lungo la fascia tirrenica. Schiarite al nord. Ventilazione molto forte tra sud e sud-ovest. Deciso calo termico. Acqua alta in Laguna Veneta. Se vuoi ricevere le previsioni aggiornate, iscriviti e attiva la campanella.